Per quanto riguarda l'assicurazione, io sono stato il primo promotore e il primo a parlarne in tempi non sospetti, già dal 2010. Allora, la polizza catastrofale in alcuni paesi viene affrontata. Io direi che si potrebbe trovare una soluzione, non entro nel dibattito governativo, però dico quello che ho sempre sostenuto. Da ministro vi ho portato avanti il fondo di solidarietà, cioè un contributo sul premio dell'assicurazione, quindi sulla spesa che il cittadino deve fare, facendo passare un principio. Per esempio, l'assicurabile non è indenizzabile, come accade in agricoltura. Ti do una mano per assicurare il tuo vigneto contro la grandine, ma se non ti assicuri il danno è solo tuo e non è più della comunità. Questo potrebbe essere una base di partenza, quindi l'assicurabile non è indenizzabile.